La logica di questa brianza così lavorativa e piena di pregiudizi e tutte strutture di coglioni si sono trovati in una sala prova e ho fatto questo cazzo di gruppo che siete venuti a vedere questa sera Vorrei presentarvi, oltre a me, il maestro Castelli Gli altri due che hanno aperto le danze, ovvero Fabio Si può dare di più, come diceva Polone Si può dare di più Fabio E morfo la batteria, un applauso Abbiamo suonato in tutti i gruppi nel culo di questo cazzo di posto che si chiama Italia con questa formazione qua ha circa 5.000 lire a testa questo Abbiamo menato un pacco di soldi ma siete qua stasera quindi aia